è di un nome di dominio registrato e anche una società se avete bisogno della cooperazione di due o tre società se uno di loro non vuole cooperare con voi allora voi siete messeri in silenzio se volete vendere qualcosa in un negozio la gente può venire e pagarvi in contanti ma se volete vendere qualcosa su internet avete bisogno della cooperazione e delle società per trasferire i soldi abbiamo visto quanto possa essere per noi lo scorso dicembre con gli uomini dei Stati distribuita denial of service attack against Wikileaks distribuita denial of service attack contro Wikileaks non è un attacco solido ma il termine si adegua perfettamente perché gli Stati Uniti hanno deciso di fare questo di negare in maniera fuori dalla legge i siti a Wikileaks attraverso l'intimidazione gli Stati Uniti dite che è stato per vostra scelta trovate qualche scusa e l'idea era che Wikileaks sarebbe scomparso dall'internet prima sono andati a Amazon Wikileaks ha venduto un server da Amazon per diffondere Amazon di sua spontanea volontà li ha lasciati fuori e non c'è stato un processo Wikileaks non è andato in un processo ma Amazon tutta una volta ha detto e poi ci sono dei nomi di dominio e sono stati portati via e poi c'è stato un processo non è stato necessario di arrestare in corte per convincere qualcuno a eliminarli dalla rete e poi gli Stati Uniti hanno provato a vedere i pagamenti che arrivano da Wikileaks magari non è ne avvi problemi naturalmente non è un risultato Quindi le pagamento di livare non èenkava quindi il pagamento di risputtore sono stati appartiti quindi i pagamenti non sono stati appartiti i pagamenti della� ing ponieważ e ho saputo che i pagamenti sono stati interrogati ripresi non sono contento e poi sono stati interni non date sui pagamenti e l'hanno fatto quelli che accettavano soldi per Wikileaks a nome di Wikileaks tutti hanno accettato questo ma conosco qualcuno di l'Italia che accettava soldi per Wikileaks e sta facendo causa a MasterCard e Visa perché gli hanno sottilocato i pagamenti sta facendo causa e penso che dovranno mandare i soldi per lui poi gli manda a Wikileaks e questa è la maniera giusta delle cose dobbiamo essere liberi di operare nello spazio Internet va dai nostri diritti quello che facciamo su Internet non deve essere una sofferenza deve essere fatto di diritto io comunque possa chiudere le nostre cose su Internet si ha abbastanza potere questo è un odio adorabile che ha bisogno di una casa però non ho bisogno di cultura se avete un pinguino perché come tutti conosciamo un pinguino non può fare non può fare un pinguino se sei un pinguino se sei il pachatore del pinguino posso signar il card posso firmare il pietino i soldi andranno alla fondazione i soldi andranno alla fondazione i soldi andranno alla fondazione the free software foundation can accept payment either in cash or with a credit card and when you bid please wave your arm and shout the quantity because you want me to know la somma perché voi volete che io vi noti per quanto offrite giusto quindi partirò da 20 euro la somma iniziale è 20 euro ok it goes too fast and if we get out of sync it just would be total confusion do I get 20 euros does anyone bid 20 euros for this adorable gadoo how much how much do I get 70 euro do I get 75 euros do I get 75 euros do I get 75 for this adorable gadoo I've got 75 do I get 80 do I get 80 euros for this adorable gadoo do I get 80 euros to the free software foundation to defend freedom to defend freedom do I get 80 euros do I get 80 euros I've got 80 do I get 85 I've got 80 I've got 80 euros do I get 85 do I get 85 for this adorable gadoo do I get 85 euros to the free software foundation to defend freedom do I get 85 last chance to offer 85 or more last chance going going gone for 80 for 80 so how do you plan to pay cash or ok please come I do have and would you like me to sign it yes ok would you like me to sign it yes how do you spell it yes 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 yes